Ciao a tutti! Oggi prepareremo le chiacchiere alla panna. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, panna fresca per dolci, zucchero semolato, un pizzico di sale, manillina, liquore tipo gran marniero o vino bianco frizzante e la buccia grattugiata di un'arancia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna, la farina, la scorza dell'arancia grattugiata, il liquore, lo zucchero, la vanillina e il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio in misurino e facciamo impastare per tre minuti in modalità spiga. Avvolgere l'impasto nella pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo con il mattarello. Togliamo in una parte intanto. Se l'impasto dovesse risultare un po' colloso aiutiamoci con della farina. Adesso tagliamola in dei rettangoli e passiamola nella macchinetta per la pasta. Una volta stesi andiamo a tagliare dei rettangoli, facciamo un taglio al centro e andiamo a friggere in olio bollente caldo in olio bollente caldo. Una volta stesi, come vedete, devono essere molto sottili. Andiamo a tagliarli in dei rettangoli facendo un taglio anche al centro e li andiamo a a friggere in olio bollente caldo in doratura. Chiacchiera alla panna! Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Grazie a tutti.